Siamo di fronte all'ex scuola elementare di Santa Maria Alta, qua si darà avvio a un convegno importante, sono 30 anni dalla istituzione del parco, una legge regionale del 1994 che ha dato avvio appunto alla riorganizzazione delle aree pubbliche dei parchi. E naturalmente siamo qua per ripercorrere un po' la storia di questi 30 anni, lo faremo intervistando tutti i protagonisti che hanno portato avanti quest'idea e questa realizzazione del parco del San Bartolo dal 1994 a oggi. Noi siamo nati negli anni 90, che erano gli anni importanti per l'ambientalismo, perché per la prima volta c'è stata una legge nazionale e poi le leggi regionali che hanno di fatto dato vita ai parchi. Certo che far partire un parco in Italia non è semplice, burocrazia, problemi, commi, controcomi, è stato difficile, però quello che mi è piaciuto moltissimo è stato intanto il rapporto con gli abitanti, che all'inizio è stato problematico, come in moltissimi parchi in Italia, perché si temeva che il parco nascesse in qualche modo contro gli abitanti, sostituendosi agli abitanti e imponendo. All'inizio c'è stato da discutere, ma devo dire che con gli anni c'è stata una grandissima stima e direi anche un affetto con gli abitanti. I risultati si vedono perché il parco si è sviluppato molto bene. Noi ci siamo occupati, non è la nostra prima parte, soprattutto della mappatura del territorio. Quindi studi di carattere scientifico, storico, per avere il materiale aggiornato e preciso su cui poi successivamente costruire il piano del parco. L'esperienza del parco è un'esperienza bella e anche estremamente complessa. È una gestione che va a impattare su tanti aspetti e su problematiche territoriali che sono abbastanza complesse. Poi questo è un parco piccolo, ovviamente, molto parzializzato, quindi con tante proprietà. E già, per esempio, anche andare a lavorare sulla rete escursionistica diventa difficile perché ovviamente molti proprietari non vogliono che si intri in certe zone. Quindi è un parco abbastanza conflittuale, conflittuale anche per altri motivi. Però l'esperienza è un'esperienza anche entusiasmante. Abbiamo iniziato un bellissimo progetto che dura 18 anni sulla migrazione dei rapaci. Abbiamo visto che il parco è molto importante come promotorio per tutta la migrazione degli uccelli. E poi, mano a mano, negli anni successivi abbiamo studiato anche i chirotteri, che sono i pipistrelli. Abbiamo rilevato la presenza del lupo grazie alle fototrappole. Abbiamo messo centinaia di nidi artificiali per la fauna, sempre per l'avifauna, per aiutarli a nidificare. E poi tanti altri progetti con le università. E poi la parte grossa, che continua ancora adesso per fortuna, è tutta l'educazione ambientale. Quindi lavoriamo molto con le scuole, con le famiglie. E facciamo circa ogni settimana delle passeggiate naturalistiche per avvicinare la gente a questa bellezza, alla biodiversità del parco. Stiamo inventando un parco intraprendente. Abbiamo presentato un progetto di discontinuità. Stiamo allineando i vari borghi del parco, per poterli portare tutti allo stesso livello, partendo da Pesero e arrivando a Gabice. Allora, stiamo facendo il bando per le guide, in modo tale che, mentre prima nessuno sapeva chi erano, dove erano e dove andavano, con il bando sarà il parco, che col suo brand farà da front office per coordinare le attività, sia in Italia che all'estero, perché anche il Museo Paleontologico ci ha portato diversi docenti a livello internazionale. e quindi di cose ce ne avevamo i cantieri tantissimi.